Stati del Governo, ritieni che per completare l'opera sia indispensabile che la legislatura prosegua per un altro anno e nel caso considera necessario per garantire continuità al lavoro del Governo che lei rimanga alla guida? Grazie Ridesornione il Presidente del Consiglio Applauso alla domanda perché ha saputo interpretare quello che sta nella testa di quasi tutti i colleghi che sono qui oggi, quindi se risponde a questa domanda nessun altro mi fa un'altra domanda su questo Allora effettivamente noi abbiamo conseguito tre gran risultati, il primo è che abbiamo reso l'Italia uno dei paesi più vaccinati del mondo, il secondo è che abbiamo consegnato in tempo il PNRR e il terzo è che abbiamo raggiunto 51 obiettivi e quindi abbiamo creato le condizioni perché il lavoro sul PNRR è continuo, quindi il Governo ha creato queste condizioni indipendentemente da chi ci sarà, l'importante è che il Governo sia sostenuto da una maggioranza come quella che ha sostenuto questo Governo ed è la più ampia possibile, è una maggioranza che voglio subito ringraziare molto perché capisco benissimo che non è facile per i partiti politici lavorare insieme con idee spesso diverse, con punti di partenza drammaticamente diversi in certe circostanze eppure questo sforzo è riuscito. Grazie Ecco straordinaria la risposta del Presidente del Consiglio che insomma già ci dà qualche piccola tenue indicazione però dice che il Governo deve essere sostenuto ad ampia maggioranza anche nel prosieguo insomma nel futuro che era l'auspicio fatto da Mattarella l'altro giorno allora noi ci fermiamo qui, vi lasciamo